L'anticiclone africano continua a tenere l'Italia nella sua morsa rovente, con afa e temperature fino a 37-38 gradi. In Toscana, domenica 4 agosto, sereno o poco nuvoloso, salvo nubi basse, in mattinata su arcipelago e costa meridionale. Nel poveriggio addensamenti cumuliformi sui rilievi appenninici, dove saranno possibili isolati temporali o brevi rovesci. Venti deboli di brezza con componente settentrionale fino a moderati di maestrale lungo la costa nel pomeriggio. Mari poco mossi, temperature massime in aumento con punte di 37 gradi in pianura, minime in lieve calo nelle zone interne. In provincia, cielo parzialmente nuvoloso, a Lucca e sulla Piana, temperatura minima 21, massima 35 gradi. A Castelnuovo di Garfagnana e zone montane, minima 18, massima 32 gradi. A Viareggia e sul litorale, minima 22, massima 31 gradi. Lunedì, cielo sereno con temperature stabili.